GF VIP7, anticipazioni 26 dicembre, concorrenti potrebbero lasciare, tra cui Antonino. L'appuntamento in diretta con il grande fratello VIP7 torna in onda questo lunedì 26 dicembre 2022 con la tessissima nuova puntata su Canale 5. Una diretta particolarmente attesa dal pubblico di questa edizione, dato che ci sarà spazio per le scelte finali dei concorrenti dopo la decisione Mediaset di prolungare la trasmissione fino ad aprile 2023. Come anticipato sulle pagine di Mondo TV 24, i vipponi di questa settima edizione saranno chiamati a decidere di portare avanti o meno la loro avventura. Tra quelli in corso, ci sarebbero almeno quattro a rischio uscita dal gioco. Nel dettaglio, l'appuntamento con il grande fratello VIP7 torna in onda questo lunedì 26 dicembre in diretta televisiva su Canale 5. Il reality show continuerà la sua regolare programmazione anche in questa giornata di festa e non subirà alcun tipo di stop anche se i vertici Mediaset, hanno preferito stoppare la doppia puntata settimanale che era stata ripristinata durante le scorse settimane di dicembre. I colpi di scena non mancheranno dato che, nel corso di questa nuova puntata serale delle reality show, ci sarà spazio per il racconto delle vicende e delle dinamiche che sono nate nel corso di questi ultimi giorni si parlerà anche delle liti che sono divampate in settimane, tra cui quella che ha visto protagonisti Oriana e Luca Salatino. Ma, al centro dell'attenzione, ci saranno anche le sorti dei concorrenti che stanno portando avanti questa avventura dato che, come è stato svelato sulle pagine di Mondo TV 24, dovranno scegliere se portare avanti o meno questa avventura fino al prossimo aprile. Nel corso della diretta del 26 dicembre, Alfonso Signorini chiederà ai concorrenti di decidere se proseguire questo percorso oppure mollare la presa e quindi tornare alla loro vita di tutti i giorni. Fuori dai riflettori delle reality show di Canale 5. Al momento, sembrerebbe che siano quattro i concorrenti a rischio uscita dalla casa di Cinecittà nel corso della diretta di Santo Stefano. Trattasi di Antonino Spinalbeise, Luca Salatino, Vilma Goic e Patrizia Rossetti, riuscirà il GFVP a fargli cambiare idea? Lo scopriremo nel corso della diretta serale di questa settimana. E poi ancora, nel corso della nuova puntata serale ci sarà spazio anche per il risultato del televoto settimanale che vede coinvolti Antonella, Antonino, Sara e Oriana. Tra questi quattro, però, non ci sarà nessun uovo eliminato dal gioco bensì verrà scelto il preferito di questa settimana. Grazie.